Commissione antimafia dopo la bufera politica Riccardo Gennuso si autosospende. Travolta dalla bufera delle polemiche la nuova Commissione antimafia per la nomina di Riccardo Gennuso vicepresidente non è piaciuta a molti. Il forzista, 31 anni di Rosolino e figlio di Pippo Gennuso, è infatti attualmente indagato per estorsione, una nomina definita incompatibile da molti suoi detrattori e le polemiche montano ogni ora di più. E ora è arrivata l'autosospensione dello stesso Gennuso. Dopo un lungo incontro con il presidente Antonello Cracolici mi autosospendo, così Riccardo Gennuso, eletto nella lista di Forza Italia, è un colpo di bassa strategia politica da parte del mio caro amico Ismaele Lavardera che, essendo a conoscenza della mia vicenda giudiziaria, anziché sostenermi nella lotta alla vera mafia, mi chiede di fare un passo indietro, esponendomi di conseguenza come bersaglio sensibile. Sono pronto fin da lunedì a presentarmi davanti al PM di Palermo per rendere dichiarazioni spontanee nell'ambito del processo che si sta celebrando da cinque anni nel capologo siciliano. Sono sereno e consapevole di non avere commesso alcun reato. Se fosse stato il contrario, non avrei minimamente accettato la carica della commissione speciale fin dal primo giorno. Gennuso asserisce di aver denunciato due volte la mafia, quella di Siracusa e poi quella di Palermo, dove mi sono presentato, ha detto davanti ai giudici del tribunale, confermando le accuse. Questo clamore credo possa mettere a rischio la mia incolumità. La denuncia era nata dall'altro vicepresidente designato della commissione, Ismaele Lavardera, nome di punta del partito di Catena De Luca. Il vicepresidente dell'antimafia siciliana, Riccardo Gennuso, è a giudizio per estorsione e deve fare un passo indietro. Io non entro nel merito dell'accusa a Riccardo Gennuso, dice Lavardera, perché non sarò mai giustizialista o manettaro. So che fino all'ultimo grado del giudizio è innocente, però non credo ci voglia tanto nel capire che in questo modo rischiamo di non essere un organo credibile a chi ci guarda da fuori, dice Lavardera. Io non mi capacito, aggiunge, del perché la maggioranza abbia permesso possa accadere una roba simile votandolo vicepresidente.